grazie della vostra presenza e per me naturalmente è un onore aprire questa conferenza stampa e questo è già un segnale di grande soddisfazione noi festeggiamo come museo del cinema il quarto quarantennale del torino film festival ho voluto farlo come si fa feste come conviene a una celebrazione di un percorso 40 anni e lo facciamo attraverso un coinvolgimento poi prenderà la parola anche l'assessore alla cultura della città di torino della vogliamo che torino festival sia una festa non solo nati di cinema per i cinefici e avremo poi occasione di ascoltare da stile della casa un ricco ma ma vogliamo e questa celebrazione anni coinvolga anche i cittadini che con un obiettivo quello di riavvicinare alla fruizione del cinema in sala i cittadini della nostra città e speriamo che attraverso questo si diffonda questa volontà di tornare in sala che è uno elemento chiaramente estremamente importante lo faremo attraverso naturalmente un luogo dei siti che coinvolgerà e sarà visivamente attraverso l'immagine guida del maestro Ugo Nespolo in tutta la città lo faremo attraverso anche la creazione in un luogo simbolo della nostra città che è la cavalleria esattamente nell'asse tra la molla antonegliana e piazza castello dietro il quattro regio dove avremo l'opportunità di celebrare l'apertura del torino film festival questo luogo sarà naturalmente la casa cinema casa festival un luogo nel quale noi auspichiamo speriamo ci sia proprio coinvolgimento dei cittadini di torino nella partecipazione a questa festa con incontri chiaramente legati alla musica al cinema e tutto questo avverrà esattamente una settimana prima della partenza del festival queste sono le considerazioni che chiaramente mi premeva fare a voi e naturalmente il museo del cinema ha investito vingente risorse in questo evento siamo molto soddisfatti della direzione dei stili della casa e a questo punto se gentilmente siccome abbiamo l'onore di avere qua il sottosegretario lucia borgonzoni se l'ho pronunciato bene benissimo e già questo è un risultato che è considerato veramente positivo perciò ti pregherei di venire qua sul palco per portarci il tuo saluto considerando che forse mi auguro non so se spoiler una notizia che non è una notizia dovrebbe no niente grazie sono molto felice di essere qua e ritengo che sia importante la presenza del governo sono nel supporto in generale delle iniziative che il piemonte che vengono fatte in piemonte legate a tutto quello che è il mondo dell'audiovisivo perché spesso l'ho detto l'audiovisivo e il piemonte sono una buona pratica che andrebbe esportata anche in altre in altre regioni l'audiovisivo ha preso sempre più piede è nato si può dire come metodo strutturato di quello che sia cultura che pensiamo occupazione promozione dei territori proprio in piemonte per questo dico che sarebbe una buona pratica perché se funzionassero le film commission e tutto il meccanismo legato ovviamente al festival legato a tutto quello che è cinema come in tutta italia come in piemonte probabilmente avremo una situazione ancora più sana di quella che comunque è sana perché il cinema l'audiovisivo nel nostro paese sono un sistema sano che funziona che come ho detto crea occupazione ne potrà creare sempre di più tanta giovanile c'è bisogno di tante maestranze e poi la cosa importante di festival come questi e che sono festival che hanno imparato nel tempo sempre più aprirsi alla città e alle persone perché la cosa importante è quella non solamente di aspettarci che gli altri vengano da noi ma aprirci noi agli altri questo festival come questo lo sanno fare molto molto bene perché fondamentale deve essere quello di rimettere al centro come ci diciamo sempre la sale la visione di quello che sono i prodotti sul grande schermo perché quello che per noi molti di voi è scontato cioè l'emozione che si prova a vedere sul grande schermo una una pellicola non è così scontato noi giovanissimi per cui il nostro grande lavoro oltre ai finanziamenti che diamo come ministero insieme a istruzione per portare l'audiovisivo nelle scuole proprio di far provare l'emozione grande schermo al bambino al ragazzino che poi è la migliore pubblicità fuori per portare di nuovo gente in sala far capire cosa vuol dire emozionarsi piangere ridere con uno sconosciuto seduto accanto a me è capitato proprio con uno di questi progetti di trovare dei ragazzini che a 13 anni non erano mai entrati in una sala sono arrivati in una sala vedendo questi progetti e se ne sono innamorati sono usciti con gli occhi pieni di di emozione di quell'emozione che si ha quando si vede qualcosa di bellissimo io credo che i festival abbiano questo ruolo e debbano avere sempre di più questo ruolo per cui aprirsi la città ovviamente è la cosa è la cosa fondamentale per attrarre la la gente soprattutto le nuove generazioni poi fondamentale ovviamente è anche tutto quello che stanno facendo il comune la regione nell'investimento dell'attrazione di di capitale e di investimento di stranieri sui nostri territori e non solamente gli italiani noi io non so ancora perché le deleghe le devo avere per cui non so ancora comunque mi occuperò di cinema qualunque cosa accada non mi non riuscirete eliminarmi da lì perché credo veramente che sia una delle grandi arti che c'è nel nostro paese una grande arte che gli altri ci invidiano perché noi spesso non ce ne accorgiamo ma io quando vado all'estero una delle prime cose che chiedono noi abbiamo un grandissimo patrimonio ma una delle prime cose che chiedono è facciamo un film assieme cosa possiamo fare dove possiamo venire a girare perché noi abbiamo questo territorio magnifico noi abbiamo un territorio magnifico con distanze piccolissime dove c'è da una parte un valore naturalistico enorme e per non parlare di quello artistico architettonico e come detto e ci tengo a sottolineare anche di maestranze bravissime per cui io credo veramente che questo festival sia un po e racchiude un po quello che c'è di bello e quello che il governo debbe e continuare a appoggiare e sempre più appoggiare infatti io mi auguro spero e stavo dicendo proprio prima a del brocco e cercherò di fare di portare ulteriori finanziamenti all'interno di tutto quello che è il capitolo dell'audiovisivo proprio per promuovere sia quello che è il tax credit sia quello che sono gli eventi e magari anche per promuovere linee di intervento specifiche per raccontare ancora meglio i nostri territori magari anche attraverso i documentari. Noi abbiamo veramente da raccontare tanto e raccontare cose che ogni tanto magari il singolo territorio sa le sanno fuori dall'Italia e non le sa il resto del paese perché io vi ringrazio veramente tanto perché 40 anni già descrive l'amore comunque che c'è dietro questo festival però vi ringrazio perché avete sempre messo una marcia in più tutti voi su quello che ha una grande arte del nostro paese che come detto tutti ci invidiano ma perché è veramente bellissimo e fatta bene. Grazie. 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 Se ci raggiunge l'assessore Purchia l'assessore alla cultura del comune di Torino le danno vediamo ti do il mio microfono. Grazie. Mi devo sedere ok grazie solo un brevissimo saluto perché bisogna lasciare spazio a Steve della casa e al racconto di questi meraviglioso futuro festival e i suoi 40 anni che non dimostra ma che ha dietro una grande storia e un grande credo. Il saluto ovviamente del mio sindaco Stefano Lorusso che qui rappresento e complimenti veramente complimenti per la scelta del luogo siamo in una sala siamo in una sala queste sale che soffrono e nel mio ruolo è un tormento e gli amici di del museo del cinema e di tutto il sistema del cinema a Torino sanno bene quanto è doloroso in questo momento di grande rinascita del cinema. Torino è piena ma come credo molte città d'Italia di produzioni le nostre sale soffrono e la scelta di fare questa conferenza di accendere le luci in questi luoghi è veramente una scelta molto forte perché noi dobbiamo fare di tutto ognuno per le proprie competenze per riportare il pubblico nelle nostre sale e schiodarlo dai salotti dai grandi schermi che la pandemia ci ha costretto ad acquistare nelle nostre case ed è importantissimo e questo festival così voluto da Steve della Casa che ringrazio così diffuso dentro il territorio va in continuità con una scelta che la città di Torino ha fatto e della quale sono molto orgogliosa perché continuerà il nostro festival con nel periodo di natalizio un'iniziativa che è circoscrizione al cinema che vuol dire la città di Torino investe e dona nelle circoscrizioni oltre 40 mila biglietti perché i ragazzi fino a 14 anni possono entrare e scegliere un enorme palinsesto meraviglioso nel mese di dicembre accompagnati con un biglietto ridotto sarà forse una goccia in mezzo al mare ma noi vogliamo con questo iniziare un grande percorso concludo col dire che Torino veramente in questo momento e lo dico non ho nessuna remora a dirlo perché non sono torinese ma sono fiera e orgogliosa per essere lì in questo territorio straordinario così pieno di attività abbiamo fatto con Film Commission con non poche polemiche abbiamo portato a Torino Fast and Furious ci sono state un po' di disagio ma abbiamo lavorato con grande serietà una di queste polemiche dice ma ma poi diranno che a Roma no 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 ragazzi noi diciamo che talmente bella Torino che per fare Roma si viene a girare a Torino grazie arrivederci con questo slogan do la parola do la parola al direttore del museo del cinema Domenico De Gaetano vieni Domenico grazie grazie mille allora abbiamo dietro questa bellissima immagine direi di far partire subito il video e poi dopo facciamo un breve intervento grazie a iscriviti a La stella del cinema. Illumina Torino. Quarantesimo Torino Film Festival. Dal 25 novembre al 3 dicembre. Buongiorno a tutti. È sempre un piacere vedere la sala piena di tour a gente in piedi all'interno di una sala cinematografica. È sempre straordinario ed ha un'emozione incredibile. Per noi questo è un anno importante e un appuntamento anche importante perché davvero questo della conferenza stampa è il primo momento per le celebrazioni dei 40 anni del Torino Film Festival. Il Torino Film Festival è in effetti la manifestazione di punta per quanto riguarda l'autunno e inverno del Museo Nazionale del Cinema. È una fondazione complessa e articolata che comprende l'organizzazione di altri festival. Il Museo del Cinema alla Molla Antonelliana, le collezioni, il Torino Film Lab. Insomma è davvero una fondazione complessa e articolata. Il Torino Film Festival è davvero la manifestazione di punta dell'autunno e dell'inverno, attesa molto anche da tutta la città di Torino. È davvero incredibile tutta questa attenzione e passione che c'è da parte della città, ma non soltanto di Torino, ma anche da parte di tutta l'Italia. E anche nel mondo, in effetti ho avuto modo di girare anche per andare a confrontarmi con altri direttori di musei in giro per il mondo. E tutti sono naturalmente, insomma da Los Angeles, dall'Academy piuttosto che Melbourne, Amsterdam, Parigi. Tutti sono affascinati dal Museo del Cinema alla Molla Antonelliana e poi conoscono quelli che sono le manifestazioni più importanti. Il Torino Film Festival è il festival sicuramente più conosciuto per quanto riguarda Torino, naturalmente poi a livello italiano, a livello nazionale ce ne sono altri. Io non vi rubo altro tempo per naturalmente l'attesa per Steve che deve svelare il programma della quarantesima edizione del festival, ma vorrei ricordarvi che è molto importante il ritorno in sala, questo è senza dubbio la cosa più fondamentale, ma è molto più importante, è molto importante anche il fatto di parlare ai giovani di cinema. Per questo motivo la mostra di Rosi che inaugureremo il 15 novembre sarà realizzata proprio per cercare di raccontare un regista come Francesco Rosi ai giovani, perché sono loro che in pratica devono imparare, tra virgolette, a conoscere il cinema, la storia del cinema e quindi l'idea è quella di portare loro all'interno delle stare cinematografiche che all'interno del programma del festival abbiamo, attraverso un bando, il piano nazionale per il cinema e le immagini per la scuola e del Ministero della Cultura e anche dell'istruzione che il Museo del Cine ha potuto realizzare il progetto Scuola in prima fila, dove alcuni film del Torino Film Festival, una sedizione che Steve ha fatto, insieme ad alcune, diciamo così, innovazioni del linguaggio audiovisivo, come il VR, piuttosto che, insomma, alcuni ambiti del metaverso, eccetera, saranno raccontati ai giovani, cioè alle scuole, a studenti delle scuole medie e delle scuole superiori, perché secondo noi i giovani, come sapete, realizzano video e li postano in continuazione su tutti i social, soprattutto TikTok e Instagram, ma vivono in un presente eterno e tocca alle istituzioni come la nostra e Festival, come il Torino Film Festival, raccontargli invece quello che c'è dietro da una parte e soprattutto quello che c'è stato dall'altra. Adesso bando le ciance e con grande piacere che annuncio e che chiamo Steve della Casa a salire qui sul parco. Un grande applauso! Allora, cercherò appunto di essere breve e di raccontarvi un festival che è stato messo insieme da un gruppo di lavoro fantastico, in collaborazione con il Museo del Cinema e con tutto il sistema cinema torinese, ma di questo parleremo dopo, però un gruppo di lavoro veramente bello, composto da persone simpatiche, intelligenti, di diversa età, di diversa origine culturale e così via, per fare un festival che sia davvero pluralista e capace di mettere insieme tante sensibilità, proprio come deve essere un festival. Il festival è una festa e le citerò via via queste persone che hanno lavorato a questa manifestazione perché senza di loro tutto questo non sarebbe successo. Però, per iniziare correttamente bisogna iniziare da chi ci ha dato la possibilità di fare questa manifestazione. Allora, come sapete, noi siamo un ramo del Museo del Cinema, col quale la collaborazione è totale, però abbiamo un insieme di enti e di società che ci hanno aiutato e sono state decisive perché questo festival ci fosse. Allora, intanto abbiamo un main media partner che è la RAI, sulla quale torneremo ancora, il Ministero della Cultura, la Direzione Generale del Cinema, tra l'altro è la prima volta che il Ministero della Cultura è rappresentato a così alto livello, credo nella storia del festival, quindi grazie mille alla dottoressa Borgonzoni. I soci fondatori del festival sono la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, Cassa di Risparmio di Torino, GTT e l'Associazione Museo del Nazionale del Cinema. scusate, il main sponsor è l'intesa San Paolo, gli sponsor sono Italy, come poi verificherete subito dopo, e iWonder, il Teatro Regio di Torino, Cassa Depositi e Prestiti, soprattutto Prestiti, sono i nostri partner, gli educational partner sono l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, il Torino Film Industry, la Film Commission Torino-Piemonte, anche su questa ritorneremo, è lo IED, i partner tecnici sono Paratissima, Martini, Peirano, Combo, Wow, CIM 4.0, Fuoricampo, Bauhaus e l'Associazione Amici del Torino Film Festival. Il festival aderisce al protocollo green dell'Associazione dei Festival, perché il festival stesso sia sostenibile, quindi avrete a disposizione, se venite a Torino, biciclette a non finire, come sapete, come tutti sanno, io giro abitualmente in bicicletta e vi consiglio anche a voi di farlo, come vedete non si ingrassa, quindi è una cosa assolutamente utile anche per la salute. I partner di questa iniziativa sono Drivaglia, IREN, IGP Deco, Tobike e SMAT. Ci sono i nostri media partner che sono Variety, CHAC, La Stampa, Cinecità News e Fred Radio, e poi ringraziamo Circuito Cinema, in particolare Cinema 4 Fontane, che è quello in cui vi ritrovate in questo momento, per aver reso possibile questa conferenza stampa così affollata e così spero anche piacevole. Allora, l'hanno detto prima la grande scommessa, io credo che bisogna mettere sempre le carte in tavola quando si fa qualcosa, allora c'è un criterio per capire se il festival andrà bene o andrà male, sarà un successo o sarà un fallimento, secondo me questo criterio c'è, e questo criterio è se le sale si riempiranno o non si riempiranno. Noi ce l'abbiamo messa veramente tutta, ve lo posso garantire, abbiamo ripristinato le biglietterie, abbiamo reso il più possibile facile accedere alle sale, abbiamo moltiplicato gli schermi, abbiamo creato, come si ricordava prima, Casa Festival, grazie proprio anche allo sforzo del Museo del Cinema, in uno dei posti più belli di Torino, sede tra l'altro di molte riprese cinematografiche in passato, quel posto lì è stato il libro cuore, nel cuore di Canale 5 di qualche anno fa, ma è stato anche la Sarajevo di Sergio Castellito in Venuto al Mondo, c'era un bar fantasma creato da Giuliano Montaldo per l'industriale, insomma è un posto più volte utilizzato dal cinema e Casa Festival sarà un punto di incontro straordinario proprio tra il pubblico normale e il pubblico degli appassionati, cioè vorrei che fosse proprio il terreno di incontro per tutte queste realtà. Sul ritorno del cinema in sala si gioca proprio la scommessa del festival, tant'è vero che il primo convegno che facciamo la mattina del 25 è organizzato da Gaetano Renda, che è qui presente in sala, che è un consigliere d'amministrazione del museo del cinema, ma anche storicamente uno degli esercenti più appassionati, più attenti che ci sia a Torino, è proprio un convegno che tratta questo argomento, cioè qual è il ruolo che può avere il cinema dentro la sala cinematografica e quanto la sala cinematografica sarà importante per il futuro del cinema. Ci credo molto, ci credano anche le istituzioni qui presenti e rappresentate, insomma dal centro sperimentale che ha appena acquisito una sala sulla quale farà molte iniziative, a Cinecità che è qui presente con la mia amica Chiara Sbarigia, mentre Marta Donzelli è al suo fianco e anche loro hanno fatto molto su questo sforzo e saranno molto presenti dentro la nostra manifestazione. Credo che questo fatto della scommessa sulle sale e sul pubblico che torna in sala sia veramente il tratto portante e fondamentale del festival di quest'anno. Ci sono molte sezioni, le vedremo successivamente. Lo dicevo prima, parlando della Rai, c'è un'inaugurazione della quale sono praticamente orgoglioso, perché sarebbe la classica cosa che vorrei fare a casa mia, cioè riunire una serie di amici e parlare di cose che mi interessano. Allora, le cose che mi interessano in questo caso sono i Beatles e i Rolling Stones al cinema, forse non interessano solo me, ma interessano anche qualcun altro. L'avrei fatto molto volentieri a casa mia, solo che gli ospiti che abbiamo pensato sono Francesco De Gregori, Malcolm McDowell, Samuel Dei Subsonica, Noemi, Vincenzo Mollica, John Vignola e poi tutta Hollywood Party, perché questa serata al Teatro Reggio sarà in diretta su Hollywood Party, che è un programma che conosco abbastanza bene, ma che consiglio anche voi di seguire con attenzione su Rai Radio 3. Tra l'altro Andrea Montanari, che doveva essere qui presente, saluta tutti voi, lui ha reso possibile questa serata. Allora, i Beatles e i Rolling Stones al cinema, sono anche questi un po' la chiave di lettura del festival, perché i Beatles e i Rolling Stones sono qualcosa di molto popolare, no? Credo che tutti, a tutte le generazioni, conoscono i Beatles e i Rolling Stones, però i Rolling Stones, per esempio, saranno rappresentati quella serata da un signore che si chiama Mario Schifano e da un altro signore che si chiama Jean-Louis Godard. Per quanto riguarda i Beatles, faremo sentire un paio di tracce piuttosto strane, piuttosto curiose, e poi vedrete che anche su di loro ci sarà un incrocio con il nome più famoso, che non vi svelo adesso, del cinema italiano di sempre, che ha avuto un suo percorso di intersezione con i Beatles, che sarà svelato quella sera dal grande Vincenzo Mollica. Insomma, ci saranno molte sorprese. Allora, siccome per motivi economici non riuscivo a organizzare questa serata a casa mia, ho pensato che si poteva organizzare la regio e con questa inaugurare il festival. È un'inaugurazione piuttosto strana, piuttosto particolare, perché è anomala rispetto a come i festival inaugurano, ma secondo me è abbastanza nello spirito di questa manifestazione, che è stata fondata da Gianni Rondolino 40 anni fa, che chiuse la sua prima manifestazione con un film concerto dei Rolling Stones, che erano appena stati a Torino, un film era di Al Ashby e si chiamava Time is on our side, e che era a sua volta un grande appassionato di musica, anche di musica pop e delle intersezioni che la musica pop può avere con la cultura alta. Quindi questo incontro è una chiave di lettura di quello che sarà il festival. Casa Festival, l'abbiamo appena detto, è un grande momento di apertura rispetto alla città, lo è anche l'opera del buon Ugo Nespolo. Allora, io Ugo Nespolo credo che sia il partner ideale quando uno vuole comunicare qualcosa, perché è intelligente, è sveglio, è veloce e fa le cose molto bene. Come questo manifesto che è pensato, come tutta la sua opera, come un chedi scomponibile. Infatti, tutte queste immagini le vedrete poi scomposte in tutta l'area del festival, che è molto concentrata quest'anno, è sull'asse di Via Pop, per chi conosce Torino. I cinema sono tutti lì, Casa Festival sta lì, tutto si svolge nell'ambito di 500 metri. Ed è, vedrete queste immagini scomposte a grandezza naturale, una a grandezza innaturale, e c'è il sottomarino giallo che campeggerà di fronte al Teatro Regi in questa storica ouverture che faremo per la manifestazione. Ho voluto ricordare Gianni Rondolino, perché 40 anni fa mise insieme un gruppo di suoi ex studenti, Barbera, Turigliato, il sottoscritto, che si erano laureati con lui e disse se proviamo a fare questa impresa. Insomma, un pochettino ci siamo riusciti, poi io quest'anno come i tre moschettieri vent'anni dopo ci ritorno, quindi mi fa particolarmente piacere ricordarlo, perché Gianni è stato un amico, una persona fondamentale. Vi dicevo del sistema cinema, se guardate il programma, poi lo guarderemo insieme, però ci sono molti film sostenuti dalla Film Commission, e questo è un fatto molto importante, anche di collaborazione che abbiamo. Poi la Film Commission di Torino notoriamente è stata qualcosa di importante rispetto anche alle Film Commission italiane, lavora molto, lavora molto bene, è guidata da una delle teste più lucide del cinema torinese, che è Paolo Manera, e quindi da questo punto di vista siamo molto contenti di averli con noi. Ma c'è anche una sezione dei film sostenuti dal Torino Film Lab. Il Torino Film Lab se ne parla molto poco, ma è un'istituzione molto importante, perché fa sì che senza il provincialismo di dire i film finanziati, qui devono essere girati qua e devono far vedere la bagna cauda, eccetera, eccetera, fa un'opera fondamentale, perché fa sì che in tutto il mondo il marchio Torino sia abbinato a dei film di nuovo cinema che vincono poi premi in tutti i festival, perché non c'è festival che si svolga senza che Veronica Geraci mandi il suo comunicato finale dicendo hanno vinto i film presentati da Torino Film Lab, eccetera, eccetera. E quindi Veronica Geraci è l'ufficio stampa del Museo del Cinema, è una mia carissima amica che su questo la prendo sempre in giro, ma però il suo lavoro è fondamentale da questo punto di vista. così come è fondamentale il fatto che collaboriamo con Torino Film Industry. Torino Film Industry, fortemente voluto dalla Film Commission, dal Torino Film Lab, dal Centro Nazionale per il Cortometraggio, è una manifestazione industry che è diversa dalle altre, perché è tutta dedicata al cinema indipendente, ai documentari, ai cortometraggi, ai piccoli film, fanno incontri professionali ma anche incontri conoscitivi molto interessanti e gestiti in maniera molto gradevole. Ecco, questo credo che sia un altro degli aggettivi che vorrei forse abbinato a tutto il cinema che si fa a Torino, l'aggettivo gradevole. Credo che, insomma, se siete qua tutti oggi non sia solo perché dopo ci sarà un ricco buffet o forse anche per quello, ma perché pensate che possa essere gradevole quello che vi raccontiamo. Allora, le varie sezioni sono sezioni, alcune tradizionali, c'è un concorso lungometraggi che vede la presenza di un film italiano, di Andrea Magnani, che ha la sua opera seconda, sono tutte opere prime e seconde, sono film indipendenti di varia natura e di vario genere che credo saranno divertenti. Ma volevo sottolineare anche che ci sono due concorsi di documentari e i documentari sono sempre stati nella tradizione del Torino Film Festival uno dei settori, dei segmenti più importanti. Bene, il concorso internazionale dei documentari e il concorso dei documentari italiani vedono impegnati alcuni dei nomi più interessanti del documentario e soprattutto sono argomenti veramente sorprendenti. E poi ci sono dei documentari italiani fuori concorso che completano questo programma. C'è un programma di cortometraggi che si chiama Spazio Italia che prevede anche un cortometraggio fuori concorso che abbiamo scelto perché è una case history importante. L'ha fatto Valentina Cenni, l'ha fatto insieme a suo marito che è Stefano Bollani, ne parleranno loro insieme con l'attore principale Giorgio Tirabassi e il direttore della fotografia Luca Bigazzi per dirci come si lavora su questo terreno. C'è un fuori concorso anche in questo caso ampio e articolato. Io qui voglio solo dirvi che c'è Sam Mendes, regista premio Oscar con il suo Empire on Light in anteprima. C'è il grande ritorno, ci sono molti i ritorni quest'anno al Torino Film Festival. C'è il ritorno di Gersi Scolimoschi, era a Cannes, adesso è candidato all'Oscar. Mi fa molto piacere che ci sia questo film. C'è Sakuro, fa altra vecchia conoscenza. C'è Werner Herzog che è un altro regista che a Torino c'è stato molto spesso. Così come molto spesso c'è stato a Torino vincendo per ben due volte il concorso, Antonio Rezza. E guardate che Il Cristo in Gola che è il nuovo film di Antonio Rezza che lui ha fatto da solo, senza Flavia Mastrella a firmare la regia con lui. È un film veramente forte, interessante. Infatti è il primo film che presentiamo il venerdì 25 all'inaugurazione. È una specie di rifacimento del Vangelo secondo Matteo fatto in altra chiave, quella chiave che ha consentito ad Antonio Rezza anche come sapete di vincere il Leone d'Oro per il teatro alla Biennale di Venezia. È un film al tempo stesso surreale e molto realistico, tenero e anche molto forte. Sarà di sicuro impatto per tutti voi. Sempre nel fuoriconcorso ci sono anche delle fiction, una almeno vorrei citarla, è il nostro generale, vorrei citarlo perché parla di Carlo Alberto della Chiesa che è stato ammazzato dalla mafia proprio 40 anni fa. È una fiction in parte girata anche a Torino. La interpreta Sergio Castellito che sarà uno dei nomi presenti ma sui nomi presenti parleremo ancora dopo. Un altro nome presente però lo cito adesso perché anche questo è fuori concorso è Michele Placido che è l'interprete principale del film di Daniele Vicario Orlando, un film coprodotto con i fratelli Dardenne che si svolge tra l'Italia e il Beggio che ha molte atmosfere simili a quelle dei fratelli Dardenne che è molto interessante. C'è anche un altro gradito ritorno è quello di Papi Corsicato. Papi Corsicato è stato una vittima della mia incompetenza perché il suo primo film fu scartato a Torino perché non ci avevo capito niente ma in realtà lui mi aveva mandato una copia senza sonoro quindi poi alla fine ci siamo capiti. Se ve lo ricordate Libera Carmela Uora senza dialoghi era un po' difficile capire cosa volesse dire insomma e quindi insomma vedo questa sua presenza a Torino anche con una sorta di risarcimento risarcimento per quel lontano torto su quale però ci siamo a lungo parlati e spiegati il primo giorno ci sarà un film di otto ore chi è frequente a Torino sa che questo non è la prima volta che accade perché accade già con Satan Tango questa volta se volete guardarvi Etel o Filippino Violence di Lab Diaz beh avete la possibilità di farlo tra mezzogiorno e le otto del primo giorno è una scelta anche questa radicale ma credo che il cinema e la cinefilia abbiano bisogno di scelte radicali e vi voglio vedere a uno a uno chi sarà presente a quella proiezione perché quelli avranno un premio speciale che qui non rivelo ma che riceveranno poi alla fine del festival c'è una personale fuori concorso che cade tutto c'è una personale fuori concorso di Carlos Vermuth un regista che è stato proposto da alcuni dei nostri selezionatori in particolare da Giulio San Giorgio che ha fatto un lavoro straordinario nel corso del festival Carlos Vermuth è un regista di genere ma al tempo stesso molto autoriale uno che fa horror ma fa film molto personali e questi quattro film racchiudono tutto l'insieme della sua opera ma anche qui chi frequenta Torino sa che abbiamo sempre seguito dall'inizio degli autori dedicandogli delle personali quando avevano fatto poco ci sono altri film italiani fuori concorso c'è I pionieri di Luca Scivoletto La caccia di Marco Bocci la sua seconda regia I sogni abitano gli alberi di Marco della Fonte I persomni di Alberto Mascia e poi ci sono dei fuori concorso con ritratti e personaggi italiani insomma che vanno da Marco D'Amore che ci racconta la Napoli sotterranea a Marco Ponti che ci racconta la Sampdoria dello Scudetto ci saranno Viali Mancini presenti e con il nostro amico Paolo Del Bocco abbiamo addirittura immaginato una proiezione speciale in un'altra sala ancora perché siamo sicuri che Viali Mancini nonostante insomma la nazionale non vada proprio al massimo però sapranno attirare il pubblico degli appassionati e questo film di Marco Ponti è veramente un film che trasmette molta passione c'è Giancarlo Scarchilli che è lì presente con il suo Pierpaolo Pasolini una visione nuova un film che racconta l'influsso che Pasolini ha avuto su delle persone non vi dico altro perché sarà abbastanza interessante scoprirlo insieme e poi ci sarà Elisabetta Sgarbi che ha dedicato un tenerissimo ritratto molto diverso da quello che uno potrebbe aspettarsi al suo fratello Vittorio allora i rapporti tra Elisabetta e Vittorio Sgarbi per me sono misteriosi perché due persone così diverse io non li ho ma non li ho mai viste però questo documentario semmai spiega qual è la magia del rapporto che c'è insomma e se non la spiega comunque sarà lì Vittorio Sgarbi a spiegare se l'ha spiegata correttamente o no c'è anche un Marco Pannella raccontato da Simona Ventura che è di Fede Granata quindi è sempre la benvenuta a un festival da me diretto ma che ha raccontato una persona che conosceva bene in maniera vedrete anche piuttosto sorprendente poi abbiamo creato una sezione fuori concorso anche questa è un'intuizione di Giulio San Giorgio che si intitola dei conflitti e delle idee sono documentari che parlano di come oggi ci si confronta con l'ideologia del novecento quindi c'è comunisti che forse l'argomento dovrebbe essere abbastanza chiaro di Davide Crudetti c'è Ok Boomer di Andrea Gopler e Gianfranco Pannone che racconta come due vecchi militanti si confrontano con oggi c'è la giunta di Alessandro Scippa che racconta un'esperienza di amministrazione a Napoli c'è l'irriducibile di Morgan Menegazzo e Maria Chiara Pernisa che invece parla di terroristi di destra c'è l'otta continua di Tony Sacucci che racconta il gruppo omonimo e c'è la scelta di Carlo Augusto Bachschmidt che invece racconta un percorso di lotta più contemporaneo c'è la sezione dedicata alle opere finanziate dal Torino Film Lab e c'è una sezione che si chiama Fedeli alla linea dedicata ad alcuni cinema indipendenti insomma che abbiamo seguito in questi anni che vanno da Michelangelo Buffa a Francesco Ballo Bruno Bigoni Tonino De Bernardi Giovanni Piperno insomma che saranno a loro volta presentati e poi c'è una sezione che Giulio Casadei Massimo Causo in particolare ma anche grazie a Paganelli hanno seguito con grande passione insieme con tutti noiati perché tutti ci viene dato un contributo che è Nuovi Mondi una sezione dedicata al cinema diciamo di ricerca nella quale si potranno vedere i nomi che saranno importanti per il cinema di domani da italiani c'è Mirco Locatelli a Francesi c'è il ritorno di Bertram Bonello e molti altri nomi c'è Rita Azevedo Gomes tra Portogallo e Spagna che ci racconta anche lei delle storie interessanti e poi c'è un'altra sezione che si chiama Crisis dove Luciano Sovena ha dato il meglio di sé e delle sue perversioni una sezione dedicata agli horror che più horror non potrebbero essere con una parte in concorso c'è anche un film italiano di Emanuele Scaringi che si chiama Pantafa e una sezione fuori concorso con un omaggio a José Mujica Marins chi è che sa chi è il grande protagonista dell'horror brasiliano attenzione e poi Luis Mandocchi che invece viene da Hollywood e che a sua volta insieme con Jaime Balaguerot racconta l'approccio alto al cinema horror c'è una sezione Back to Life nella quale Caterina Taricano anche lei ha messo insieme molte cose insieme con il centro sperimentale con Cinecità Luce con il museo del cinema cioè gli archivi italiani hanno partecipato in maniera importante a questo lavoro ci sono vari film insomma film di impegno come Allarmi Sian Fascisti oppure Il processo di Verona capolavori come i recuperanti di Ermanno Olmi che secondo me è uno dei film più belli dei 10 film più belli del cinema italiano di sempre e sono molto contento che ci sia e altri film di genere tra i film di genere visto che c'è il mio amico Kurti qui presente in sala vorrei citare un film che io adoro che nessuno di voi avrà visto forse nessuno di voi vedrà che è il mitico 2 più 5 missione IDRA film di fantascienza italiano degli anni 60 vi dico solo come inizia stanno girando un carosello a Cinecità e arrivano i marziani ma non sto scherzando e poi continua con i marziani che rapiscono astronavi sgangherate c'è un film straordinario che grazie al mio amico Gianluca Curti ha fatto che dentro c'è la grande Leonora Ruffo che la sua bellissima mamma insomma che è un'attrice che quei film ha fatto con con grande passione con grande professionalità sono riuscito a convincere a restaurarlo è una cosa imperdibile che vi consiglio chi ama la cultura camp non può perdersolo invece chi ama la vera storia del cinema grazie all'apporto del mio amico David Grieco abbiamo fatto venire l'ospite principale del festival di quest'anno che è Marco McDowell gli dedichiamo sei film e dedichiamo anche a Mike Aplan che ha fatto un documentario su Marco McDowell facciamo un omaggio a questo nome nei 50 anni di Arancia Meccanica quindi un anniversario tondo che ci fa piacere c'è una sezione che si chiama Mezzogiorno di Fuoco che è una sezione della quale devo ringraziare soprattutto me stesso ma anche il buon Matteo Pollone che mi ha aiutato la chiamiamo Mezzogiorno di Fuoco indovinate perché perché sono western li proiettiamo a Mezzogiorno una trovata veramente di genio della quale sono molto orgoglioso però sono western che non avete mai visto sono western minori di Sam Newfield di Roy Rowland di Ray Enric di Alfred Green di Richard Carson di Leslie Selander di Joseph X. Lewis e di Eric Keller quindi nomi di seconda fila ma nomi piuttosto importanti tutto questo avverrà a Torino non vi ho detto dulcis in fundo i grandi nomi che ci saranno uno ve l'ho detto Marco McDowell vi ho citato Placido e Castellito ma vengono anche Paolo Sorrentino Mario Martone Tony Servillo Marco D'Amore l'ho già citato Paola Cortellesi Noemi ci sarà veramente un florileggio di nomi attenzione tutti questi nomi non verranno per farsi selfie o per farsi tappeti rossi ma verranno per raccontare il loro rapporto con il cinema come sapete il vecchio Truffo diceva che ognuno di noi ha due mestieri il suo e quello di critico cinematografico vedremo se questa frase del grande François ha ancora un senso e una sua attualità non posso concludere senza ringraziare chi ha accettato di far parte delle giurie allora in queste giurie noi abbiamo scelto di mettere in ciascuna di esse un critico cinematografico proprio come scelta politica in attesa poi con la FIPRECI di vedere l'anno prossimo di costruire un percorso insieme molto importante da questo punto di vista la giuria del concorso lungometraggi composta da Nella Barfi produttrice francese da Fabio Ferzetti che è qui qui presente che ci onora della sua della sua presenza sono veramente molto contento che ci sia già citato Mike Kaplan da Fernando Lima che è il presidente del festival del Mar di Plat in Argentina e dalla regista italiana Martina Parenti che come sapete ha partecipato più volte anche alla mostra di Venezia insieme a suo marito Massimo Danolfi che invece nella giuria documentari internazionali insieme a Ujana Kim produttrice lituana ma di origine coreana per dimostrarvi che insomma copriamo un po' tutto il mondo e Miguel Valverde che fa il produttore ma lo fa in Portogallo il concorso di documentari italiani vede schierati Chiara Bellosi Alessandro Rossetto e Dario Zonta credo non abbiamo bisogno di presentazione c'è lo Spazio Italia con Luisa Porrino che è una regista e le due giornaliste Ilaria Feole e Erika Favaro Cresis ha una giuria composta dal grande Lamberto Bava da Silvia Pezzopane e da Carlos Vermuth è già citato volevo ricordarvi ancora che ci sono una sezione dedicata agli schermi eretici qui in sala c'è Antonio Bido che sarà presente a sua volta con questo incontro e che credo annuncerà il fatto che finalmente tornerà al cinema questa è una notizia importante per tutti noi che abbiamo amato Solamente Nero e gli altri film da lui proposti in passato volevo anche ricordarvi che la badrina del festival è Pilar Fogliati che in questo momento non c'è perché sta girando per l'appunto a Torino grazie all'opera della Fincommission ma sarà presente con noi la prima sera e avere Pilar Fogliati al fianco è una cosa veramente piacevole come siccome piacevole stare qui con tutti voi nessuno si è alzato forse perché vi siete addormentati ma adesso vi se non avete domande da porci come si dice in questi casi possiamo poi accedere sotto però se avete domande a parte gli scherzi sono qui pronto per qualsiasi risposta sia utile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti